È necessario per noi prepararci bene al Natale proprio perché tradizionalmente questa festa è come se fosse in qualche maniera inglobata in un'iniziativa commerciale e anche emotiva, solo emotiva. In realtà questa festa del Natale dà il senso della nostra vita perché nella Pasqua il Signore realizza la vittoria sul male, nel Natale il Signore viene a dare alla nostra umanità quello che le manca. Anche se non ci fosse, mettete che non ci fosse il male, non ci fosse né il peccato, né le malattie, né anche la morte, facendo questa ipotesi, la nostra umanità non sarebbe realizzata da sola. Qualcuno ci chiede, ma se non ci fossero stati i primi uomini a peccare, allora Dio non sarebbe venuto poi sulla terra? Perché in genere, tradizionalmente si pensa che il Signore sia venuto a riparare, a vincere il male soltanto. Però circa 60 anni fa, quando c'è stato il Concilio Vaticano II, una delle espressioni che il Vaticano II, questa grande riunione della Chiesa, ha elaborato è stato il fatto che indipendentemente dal male, la nostra natura ha bisogno di Dio. Ecco, la nostra natura, anche se non ci fosse il male, non è solo un problema di patologia, ecco, come vuol dire, metti che non fossimo nel peccato, metti che non ci fossero le malattie, metti che non ci fosse neanche la morte. Noi, lo stesso avremmo il nostro destino in Dio, perché noi ci realizziamo quando siamo in comunione con Dio. Quindi, storicamente, sarebbero, che vi posso dire, sarebbe stato diverso, per esempio, metti che non ci fossero la morte, come saremmo passati da questa vita all'altra vita? In una maniera più naturale. Cioè, quando finisce la nostra vita, poi noi saliamo al Signore, senza il trauma della morte. Una volta che, per la libertà degli uomini, si è introdotto il potere del male, quindi la morte, che è il punto più negativo dell'opera del male, il Signore, diciamo, tutto è diventato, possiamo dire, sotto il potere del male. In questo mondo, attualmente, in questo momento nel mondo, non si fa la volontà di Dio, non comanda Dio. Infatti, noi dobbiamo chiedere al Signore, sia fatta la tua volontà, perché non si fa. Perché, altrimenti, se si facesse la volontà di Dio, non ci sarebbe bisogno di chiederlo. Poi, la prima lettera di San Giovanni ci dice che tutto il mondo è sotto il potere del diavolo. Questo non toglie che nel mondo ci siano cose belle, perché la natura umana è fondamentalmente buona. Anche le persone più cattive sognano un bene. Anche una persona cattiva non è che sogna di per sé il male direttamente. Sogna un bene, solo che lo sogna per la via dell'egoismo, della superbia. Anche il demonio vuole essere come Dio, ma non accetta la via della carità. Anche il demonio promette la felicità, però poi rovina le persone. Quindi, anche le persone che accumulano il denaro, ecco, loro, secondo loro, avendo molti soldi, pensano di avere la felicità, ma sognano la felicità. San Tommaso d'Aquino, 800 anni fa, diceva, anche quello che ruba una cosa, la ruba perché pensa che, apprendendo quella cosa, può avere più felicità. Poi si accorge che rubò, ma non ha la felicità. Quindi noi, in fondo, siamo degli esseri che per natura sogniamo la felicità più totale. Solo che sulla Terra si realizza parzialmente questa felicità e poi c'è l'opposizione del male, che distrugge. Infatti tutto converge verso la morte, no? Anche se uno non avesse malattie, ma sempre verso la morte va, per natura, non c'è niente da fare. Ecco, questo mondo è stravolto dal male, ma è nato dalle mani di Dio per la felicità. Allora il Signore è venuto a trasformare il male in bene, però, vedete, chi è andato a messa domenica scorsa, o anche ieri il Vangelo, per esempio, vi ricordate perché San Giovanni Battista è intratto in crisi? San Giovanni Battista, dopo aver battezzato suo cugino Gesù, ha visto la colomba scendere. Però poi, quando era in carcere, gli venne il dubbio, ma sei tu quello che aspettiamo? Oppure dobbiamo aspettare un altro? Non so se vi siete chiesti perché questo dubbio. Perché il modo di agire di Gesù era diverso da quello che si aspettavano del Messia. Loro si aspettavano che il Messia arrivasse e risolvesse tutto in un attimo. Cioè ci tagliava la testa alle persone cattive. Strappasse il potere del male e distruggesse tutto il male con le persone. Punisse i colpevoli. E creasse un mondo solo di perfetti. Arriva Gesù ed è amico dei peccatori. Muore lui per gli altri. Dà spazio a tutti. È misericordioso con tutti. Per cui San Giovanni Battista dice un attimo, ma è lui poi veramente? Perché non si aspettavano che lui salvasse il mondo pagando lui. Quindi, vi ricordo che fino a Gesù erano le persone che sacrificavano gli animali per Dio. Da quando c'è Gesù, vi ricordate che ha detto Gesù, io sono l'agnello. Non c'è bisogno più di agnelli, di buoi. Io sono l'agnello immolato per gli altri. E' Dio che si offre per noi. E addirittura ci dice che noi possiamo vincere il male e la morte portando la croce. Chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi seguo. Che è uno scandalo. Se ci fate caso. Tutte le volte che noi portiamo delle croci pesanti, uno dice, ma è pesante la croce. Perché? Perché di fatto noi non siamo nati per la croce. Siamo nati per la felicità. E quindi portare la croce. Chi vuol salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita, la sciuperà per il Vangelo, la ritroverà in cielo. E poi ci dice che noi siamo come il chicco di grano che marcisce. In effetti il nostro corpo marcisce. Vabbè, ora c'è la cremazione, per cui o marcisce, oppure è a forno. Ma comunque, o a forno, o per i verbi, a differenza non è gran che... Ecco, vi ricordo che per noi cristiani, anche la cremazione non è un grosso problema. Certo, non è nella nostra tradizione la cremazione. Però la Chiesa dice giustamente che la cremazione, però, deve garantire che le ceneri, siccome il nostro corpo, da quando noi siamo battezzati, è sacro, il nostro corpo è sacro. E quindi noi, vi ricordate che durante il funerale noi incensiamo il cadavere. Perché? E poi abbiamo le reliquie, le reliquie dei santi. Perché il nostro corpo è veramente il Tempio di Dio. Ecco, allora le ceneri si devono rispettare e non devono essere disperse e non devono essere profanate. Perché sono, in quelle ceneri ci sono delle parti del corpo. Perché poi, come dice il credo, noi aspettiamo la risurrezione dei morti. Ecco. E quindi poi il Signore ci darà una nuova fisicità simile a quella del risorto, che passava tra le mura, eccetera. Dice San Paolo in 1 Corinti 15, sarà un corpo spiritualizzato. Però, vi dicevo, noi aspettiamo la venuta del Signore perché ne abbiamo bisogno. Infatti, quando noi non amiamo Gesù, amiamo a posto di Gesù qualche altro elemento. Ma noi per forza. Ecco, a Napoli si dice, si può campare senza sapere perché, ma non si può campare senza sapere per chi. Quindi, o si campa per i figli, o si campa per il marito, o si campa per la moglie. Ma noi stessi abbiamo, ci creiamo una ragione. E quando è una persona, è ancora, però tante volte si ama le glorie umane, si amano, non so che vi posso dire, il successo, i trionfi così, l'economia, il potere. Cioè, in ogni caso, noi, essendo creature, abbiamo, possiamo dire, uno scopo di vita. O accogliamo il Signore che viene, oppure a posto del Signore si mette qualche altra cosa. Mi ricordo da ragazzo, quando eravamo ragazzi, chi ha 60 e rotti anni, si ricorda che allora si mettevano le ideologie. Ecco, c'erano le ideologie di destra, le ideologie di sinistra, mi ricordo di me, i miei compagni si pigliavano proprio a, ammazzate pesante, tanto, sapete, le catene, le cose, mi ricordo, c'erano assemblee molto infuocate a loro. Passano le ideologie, ora si vive per il telefonino, per esempio. Ecco, si vive per le altre cose, così. Ma in ogni caso, ognuno si va creando qualche cosa. Anche, per esempio, le persone che vivono le dipendenze, per esempio. Vivono le dipendenze, si fanno schiavi delle dipendenze. Può essere, che vi posso dire, può essere la ludopatia, il gioco ad azzardo, può essere l'alcol, può essere le droghe, possono essere le pornografie, queste cose. Perché hanno un vuoto nel cuore. Perché nel cuore non si sentono bene. Si devono ubriacare di qualche cosa. Si devono immergere in qualche cosa che li prende per non sentire la sofferenza, per non sentire il loro vuoto. Ma il nostro vuoto, dice Sant'Agostino, si riempie solo se accogliamo Gesù che viene. E voi vi ricordate che le venute di Gesù, dice San Bernardo, già 1200 anni fa, le venute del Signore sono tre. Quella storica, che abbiamo così ricordato durante il canto. Quella attuale, che noi vivremo, per esempio, specialmente nella Eucaristia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. E Gesù viene. Ma possiamo dire che a partire dall'Eucaristia ogni giorno, tutte le volte che preghiamo, anche a casa nostra, diciamo Dio vieni a salvarmi. E Lui viene veramente. Quindi quella dell'Eucaristia è una venuta speciale, per dire la verità. Ma anche a casa nostra, visto che noi siamo figli di Dio, viviamo in un regime di Pentecoste, per cui il Signore viene. E poi verrà alla fine, quando lo incontreremo, sia personalmente, che una volta si chiamava giudizio particolare, e poi quando finirà la storia, giudizio universale. Ecco, questa sarà la fine. Però vedete, già è programmato che noi dobbiamo vedere il Signore. Solo che, come sapete, noi tante volte siamo impreparati. Perché quel Salmo 41 che dice, Signore, quando verrò e vedrò il volto di Dio, quando verrò e vedrò il volto di Dio, noi lo viviamo con molta paura. Ecco, se in questo momento si spegnessero le luci, se ne andasse la luce, e ne compare Gesù che c'è là dentro, si apre la porticina del tabernacolo, ed esce fuori Gesù, risorto, e ci dice, come gli apostoli, pace a voi. Ecco, vi comunico che stasera sarete con me in paradiso. A volte è aperta, scappassimo forse. No, no, io lo dico provocatoriamente, però questo lo disse al buon ladrone, che era un ladrone. Stasera stesso, oggi stesso sarei con me in paradiso. Per dirvi che questo è il destino nostro, il destino con lettera maiuscola, che noi, senza questa venuta del Signore, noi siamo un'opera incompleta. Cioè, senza Gesù, qualsiasi cosa noi facciamo, non completa mai la nostra vita. Voi vedete, uno resta, una volta si diceva, ventesure e tre quarti. Cioè, non completa mai la tua vita. Te manca sempre qualche cosa. Ci avete fatto caso che ci manca sempre qualche cosa a noi. Ci manca sempre qualche cosa. e noi aspettiamo sempre qualche cosa. Tanto è vero che nella letteratura ci sono delle opere importanti. Per esempio, Aspettando Godot, che è un'opera, che è molto ironica, possiamo dire. Tu aspetti sempre tutta vita, tutta vita, aspetti che arriva questo Godot, che non arriva mai. Per cui voi vedete, ognuno va aspettando quello che non ha. Però, in effetti, il nostro cuore, quando accoglie Gesù, ha già raggiunto la pienezza dell'attesa. All'inizio delle confessioni di Sant'Agostino, vi ricordate che Sant'Agostino ha detto, Signore, il nostro cuore è inquieto, finché non riposente. Allora, se noi, per esempio, mettiamo al primo posto il regno di Dio, perché Gesù l'ha detto, mettete prima di tutto il regno di Dio, prima delle cose umane, cosa che tante volte non facciamo, vedete? moltissimi cristiani, giustamente a livello logico umano, mettiamo, o mettono, la salute al primo posto. Io, tante volte, noi abbiamo sentito anche i nostri confratelli sacerdoti dire l'importante è che c'è salute. Ma Gesù non ha detto questo, senza togliere nulla alla salute, perché quando abbiamo la salute, abbiamo la salute fisica, ripeto, abbiamo un dono grandissimo. Però, vedete, se uno avesse la salute fisica, ma avesse l'inferno nel cuore, non si gode, manca salute, sapete? Vedete che c'è gente che dentro ha la tristezza, ha il tedio, l'angoscia, le paure, le ansie, pensieri cattivi. Ecco, in effetti, non è una bella vita, sapete? Quando il medico dice a tante persone, lei non ha niente fisicamente, fisicamente sta bene, ma è un problema dell'anima, è un problema o della mente o dell'anima, che sono due cose un po' diverse. Ora, Gesù invece ci dice che la pace del cuore, vi ricordate? Gesù ci dice, la pace che vi do io non ve la dà nessuno. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come quella che dà il mondo, io do a voi. Per questo vi dicevo, noi, se vogliamo vivere bene questo Natale, dobbiamo fare una scelta per Gesù. E considerare le parole che Gesù ha detto, che lui, che il Regno dei Cieli è Gesù poi, il Re del Regno, no? L'abbiamo festeggiato, vedete, due o tre domeniche fa, Cristo, Re dell'universo. Se noi facessimo la scelta di mettere al centro dei nostri interessi Gesù, prima di ogni altra cosa Gesù, vieni Signore, che poi è quello che ha fatto Maria, Santissima, quello che ha fatto San Giuseppe, se noi mettessimo Gesù al centro del nostro cuore, noi vivremo un Natale autentico nel nostro cuore, perché quello storico già è successo due mila anni fa. Questo Natale il Signore ce lo dà perché nasca dentro di noi o tra di noi, perché possiamo coltivare la presenza di Gesù, perché noi storicamente non c'eravamo due mila anni fa, ma lo Spirito Santo rende vivo il Natale oggi per noi. Il giorno della Natale voi sentirete il sacerdote che dirà oggi per noi è nato il Salvatore, per noi. Quindi viene per noi. Se noi veramente diciamo Signore io sono nato per te, io sono in questo mondo per te, sembra una cosa strana sapete per noi cristiani, non siamo abituati a un cristianesimo così radicale. Noi siamo nati per Cristo, con Cristo e in Cristo. Siamo nati figli nel figlio. Le altre cose vedete il Signore ci dice poi le gestiamo insieme, non vi preoccupate, non vi affannate, non sperate in questo mondo perché se rimane delusi sapete quanta gente resta delusa perché io mi aspettavo e io mi credevo e sono rimasto deluso e sono rimasto delusa ma in questo mondo visto che il cuore desidera Gesù delude tutto delude tutto oppure delude Gesù sì vi devo dire che tante persone restano deluse di Gesù perché si aspettano da Gesù che Gesù dia loro quello che dicono loro e invece sapete che ieri era San Giovanni della Croce San Giovanni della Croce in uno dei suoi scritti più belli dice il padre quando tu parli col Dio padre l'unica risposta è sempre Gesù il padre non sa dire altro che Gesù tu ci dici signore dammi la pace e il padre ci risponde Gesù accogli Gesù ma io voglio mi sento incompleto mi sento per esempio schiavo dei miei difetti e il padre che risponde accogli Gesù lui ha la risposta non c'è un'altra risposta vedete il padre ci offre sempre suo figlio perché suo figlio qualsiasi problema noi abbiamo suo figlio suo figlio è in grado di completare la nostra vita e di renderla piena Gesù è la pienezza dell'universo in lui ogni cosa trova il suo punto omega cioè il suo fine e il suo scopo e la fine anche non solo il fine ma anche la fine ora questa esagerata tensione verso Gesù sapete noi non la troviamo pastoralmente nel popolo di Dio perché non è colpa vostra perché il pesce lo dico in italiano fede sempre dalla testa certo non c'è stata la spiritualità per far capire che il cristianesimo non è una pratica religiosa anzitutto il cristianesimo è la persona di Cristo nei primi tre secoli che ancora non c'erano le chiese gente come Santa Lucia l'altro giorno Avantiere Sant'Agata ancora prima di Santa Lucia vivevano non c'erano le chiese ogni tanto si riunivano alcuni nelle catacombe dove c'erano ma loro vivevano Gesù risorto vivo dentro di loro per loro la frase di San Paolo Filippesi 1.21 per me vivere Cristo morire un guadagno che è una frase esagerata per me vivere Cristo morire un guadagno era la vita cristiana quando poi col quarto secolo con l'editto di Costantino in un certo punto il cristianesimo prima divenne libero lecito poi divenne addirittura religione di Stato per cui religione di Stato sapete è una cosa un po' pesante religione di Stato significa che poi nell'anno ottocento Carlo Magno invadeva un popolo e lo battezzava autoavvaticamente diceva nei miei territori nel mio regno nessuno può non essere cristiano tutti devono essere cristiani e questo per certi aspetti fu un guaio vedete perché poi la gente si abituò a vedere il cristianesimo come un fatto sociale infatti voi vedete per noi è sinonimo uomo e cristiano cioè se passa un vucumpra che è musulmano noi diciamo du cristiano noi diciamo du cristiano perché per noi il perimetro della società era uguale al perimetro della chiesa e come per dire tutti erano battezzati ora si cominciano a vedere bambini non battezzati gente che non battezza i figli gente che non si sposa in chiesa ma fino a cent'anni fa cinquant'anni fa tutti si battezzavano però questo ha portato a vedere il cristianesimo come una pratica religiosa cioè una pratica religiosa si va in chiesa tradizionalmente tante volte le feste sono un fatto folcloristico dalle nostre parti fanno ballare un santo ecco per carità uno non è che dice però non è questo il cristianesimo non è questo il cristianesimo il cristianesimo è vivere per Cristo fare di Cristo la ragione della nostra vita trovare in Cristo la mia completezza non nelle cose umane la completezza della nostra vita si trova in Cristo Cristo è la pienezza della mia vita quando arriveremo in paradiso per noi sarà normale questo non si entra in paradiso se non si vive per Cristo perché sapete io non ve lo posso disegnare però in paradiso c'è siamo nella Trinità nel paradiso noi dove ci collochiamo ci collochiamo nel figlio perché c'è il padre che ama totalmente il figlio e il figlio ci ha fatto diventare figli noi c'è che diventiamo non diventiamo pace eterna se uno è superbo si sente un pace eterno ma non è un pace eterno restiamo sempre figli e Gesù è contento di essere figlio Gesù è figlio per l'eternità ma è contento Gesù non vuole diventare padre in paradiso no mentre sulla terra chi è figlio a un certo punto vuole diventare padre per farsi una famiglia in paradiso non è più così è finito il tempo nel mondo in paradiso saremo tutti figli nel figlio dalla parte del figlio amati dal padre e quindi noi troveremo in Cristo la nostra identità cioè noi abbiamo come modello Gesù e quindi l'avvento per noi quindi non è una cosa in più che se non ci fosse uno si può realizzare questo lo pensano le persone le persone di fuori della società pensano anche per esempio che vi posso dire la costituzione sia italiana sia europea queste cose tutte pensano che l'uomo possa realizzare la propria vita soltanto con le risorse umane con l'intelligenza umana con la capacità umana con la cultura arriva Gesù vi ricordo e disse senza di me non potete fare niente Giovanni 15 5 ora o ha ragione Gesù e hanno tolto tutti o Gesù non ha ragione e hanno ragione gli altri io direi ha ragione Gesù infatti Gesù ha detto il cielo e la terra passeranno le mie parole non passeranno non passano le parole di Gesù potete stare tranquilli sono una roccia per questo tutte le altre cose che non che non si possono essere assimilabili a Gesù vedete che ci deluderanno tutte tutte anzi io vi direi chi non è proprio megalomane resta deluso pure di se stesso non essere contenti di noi stessi è una delle cose che penso viviamo molti di noi non siamo contenti di noi stessi no perché non siamo come vorremmo no perché potremmo essere migliori in tante cose però questo per esempio come si risolve distogliendo lo sguardo da noi e accogliendo Gesù che ci ama come siamo Gesù ci ama così come siamo per farci diventare migliori ma già ci ama vi ricordate l'esempio del figlio del prodigo il figlio del prodigo arrivò a casa quando tornò che era mezzo morto affamato sporco ma il padre lo abbracciò così com'era quindi se noi crediamo che Gesù ci accoglie e Dio padre ci accolgono come siamo anche il fatto che siamo miseri poveri non è un grosso problema sì signore io voglio diventare migliore sempre di più ma non è questo che mi fa gioire mi fa gioire il tuo amore dobbiamo spostare l'attenzione il baricentro dal nostro io a Gesù il centro del nostro cuore non può essere il nostro io perché altrimenti sapete siamo sempre egocentrici il centro della nostra vita sei tu signore perché abbiamo tante paure ma come si risolvono le paure vi ricordate anche se andassi in una valle oscura dove c'è paura io non temerei alcun male perché tu sei con me il tuo bastone il tuo vincastro mi danno sicurezza quindi io vi direi non possiamo vincere le paure da noi stessi non possiamo completare la nostra vita perfezionarci da noi stessi noi abbiamo sempre bisogno di Gesù chi si vanta si vanti del Signore San Paolo vi ricordate chi si vanta si vanti di Lui di null'altro mi vanterò Galati capitolo 6 di null'altro mi vanterò se non della croce del mio Signore perché mediante la croce del mio Signore io posso vincere il male e alimentare la salvezza dell'umanità quindi io mi unisco alla croce di Gesù per unirmi alla risurrezione di Gesù che è quello che avviene durante la Messa quindi io vi direi un tempo importante perché da ora a Natale ci dobbiamo abituare a vedere Gesù come il dono che noi riceviamo infatti vedete si fanno i doni per Natale perché Natale è il dono che il Padre ha fatto a noi di suo figlio e proprio per questo dono e poi si associa anche Babbo Natale che sapete che in pratica Babbo Natale è San Nicola San Nicola che nei paesi del nord poi è diventato Santa Claus ma è San Nicola infatti anche il cappello di San Nicola è poi diventato una specie di così di barrettino triangolare ma in realtà era la mitria di San Nicola perché San Nicola ha sempre donato ed è famoso perché ha tre sfere ve lo posso dire perché noi abbiamo la chiesetta di San Nicola da noi ci sono tre sfere che sono tre sfere di oro che lui fece fondere tutto l'oro della chiesa perché c'erano tre ragazze che stavano povere che li stavano proprio coinvolgendo nella prostituzione allora lui per salvare queste tre ragazze fece prendere tutto l'oro che c'era nelle sue chiese e diede la dote a ognuno di queste tre ragazze che consisteva in questa palla di oro ecco per cui lui porta i doni in questo senso che lui ha donato sempre San Nicola è famoso nella chiesa orientale anche per questo però vedete il vero dono lo riceviamo noi che è Gesù che viene quindi noi dobbiamo vedere Gesù come nostro necessario signore senza di te il mio cuore non sarà mai soddisfatto di niente e poi non vi scandalizzate di nulla perché poi sapete ogni volta che poi o si muore o diventiamo vecchi o ci sono malattie o ci sono altre cose sempre c'è un motivo per dire sono rimasto deluso per favore diamo importanza soprattutto a Gesù risorto che è con noi perché stasera noi ci ci beremo di Gesù risorto ora celebriamo la messa e vedete che Gesù risorto è già la vita eterna che abbiamo nel cuore e la venuta di Gesù deve il nostro cuore riposare su Gesù le altre cose se ce le abbiamo ringraziamo Dio se non ce le abbiamo facciamone a meno io vi direi anche Cristo Gesù non ha avuto tutto nella sua vita è nato in una stalla non aveva neanche una pietra su cui poggiare il capo per cui Gesù quando gli disse maestro io ti seguirò vedi che gli uccelli hanno i niti ecco gli animali hanno le tane ma il figlio dell'uomo non ha neanche questo non ti può assicurare benessere quindi diciamo noi le cose fondamentali non ci mancano anche se siamo in tempo di crisi dobbiamo accontentarci perché ci sono il Papa l'altro giorno piangeva per le persone dell'Ucraina vi ricordate che non riusciva neanche a dire la preghiera perché in effetti le notizie che arrivano che là ci sono meno sette meno sette qua oggi c'era ventisei immaginate che significa oggi qua avevamo ventisei gradi sopra zero e da su a meno sette non hanno la luce ci manca un manciare vivono sotto le bombe quindi onestamente dobbiamo dire signore diciamo se possiamo fare anche un minimo di privazione o volontario oppure perché magari ne manca qualche cosa diciamo signoruzzo noi non ci dobbiamo lamentare perché onestamente non ci mancano le cose essenziali ecco noi siamo a livello che se una persona invece di chiedere soldi vi chiedesse mi pago un panino chi di noi o chi di fuori chi di fuori si nega perché noi abbiamo quando chiedono soldi abbiamo il sospetto ma se uno mi domanda sai ho fame ecco ho fame mi paghi qualche cosa perché ho fame nessuno si tira indietro ma neanche il barrista sapete noi conosciamo gente che hanno i locali dice quando viene qualcuno e mi viene a dire dietro il ristorante sa padre padre sa ho bisogno ho fame subito noi ci prendiamo due o tre porzioni di pasta e ci diamo non c'è problema da noi tanto si etta noi abbiamo per questo vi dico a noi l'essenziale non manca però c'è gente che anche oggi è morta di fame nel mondo quindi sapete Gesù ha davanti il mondo intero per cui accogliere Gesù significa avere un cuore come Gesù ora io ecco sono le 18 e 19 possiamo celebrare la messa che dite ecco